Qua abbiamo un Brembole di GinAudio, è un gin che viene dall'Ungria, questa è una novità sul mercato, ovviamente viene fatto da un'azienda agricola su mia ricetta, vengono raccolte tutte le botaniche in Ungria, in questa azienda agricola, abbiamo timo, rosmarino, pepe rosa, cedro e quant'altro, queste botaniche vengono spedite in Franciacorta, vengono distillate separamente, poi il batch completo viene messo in infusione con foglie di olivo, qualità moraiolo che è tipica dell'Ungria e il distillato viene riportato a gradazione con acqua e sale per dare sapidità al gin, è nuovissimo sul mercato. C'è bisogno o c'era di un nuovo gin italiano? Non c'era tutto questo bisogno, era più una nostra esigenza di recuperare con questa azienda agricola tutti i materiali che non venivano utilizzati, quindi foglie di olivo che venivano scartate. Ma perché in qualche modo la tua famiglia è legata a… L'azienda agricola non è di mia proprietà, ma è di un carissimo amico e quindi abbiamo sviluppato questo progetto insieme. Anche per rivitalizzare l'azienda sostanzialmente. Esatto, esatto.